Diciamo FreeWaFi tutti per l'ultima volta Molti di voi si sono chiesti dove fossi andato a finire in questo periodo Perché è un paio di mesi che non pubblico un cavolo sul canale Molti di voi si stavano domandando sia ad Octi sia in live su Twitch da me Perché non faccio più video, dove ero finito eccetera eccetera Avevo detto che dovevo trovare del tempo per fare questo video E ho detto, lo faccio, devo farlo, trovo un buchetto e lo pubblico sul canale Vi chiedo innanzitutto di guardare tutto il video Cercherò di essere più breve e coinciso possibile So che sono uno che parla tanto, si perde nei discorsi Però spero di non far durare il video lunghissimo Ma qualche minuto, 5-6 minuti massimo Ormai sia io sia Octi abbiamo una certa età che comunque per lavorare Ci servono determinati documenti e pagare determinate cose E il canale YouTube per Octi vuole farlo diventare un lavoro super serio Per fare ciò ci vogliono dei regimi fiscali che non riesco a sostenere Comunque il canale per il momento non è alle stelle E comunque non fa guadagnare così tanto come voi tutti pensate Dall'era di YouTube, gli YouTuber guadagnano milioni e milioni di euro Non è assolutamente vero O almeno all'inizio Vi faccio un piccolo esempio Pensate di dover aprire un negozio che sia di qualsiasi cosa Di, non lo so, di riparazioni O che vende caramelle O qualsiasi cosa Per fare ciò ci vuole un investimento iniziale E comunque alla fine dell'anno dovete pagare determinate tasse Per mantenere il negozio aperto eccetera eccetera Come YouTube, il negozio, tutte queste attività Alla fine dell'anno comunque in un tempo inferiore ai 3-4 anni Perché comunque se no non riesci più a vivere Devi ritornare le spese, pagare alla fine dell'anno determinati soldi Determinate tasse E devi riuscire anche a ritornare sulle spese Cominciare a guadagnare Se no non riesci a vivere, devi chiudere Neanche YouTube è una certezza da questo punto di vista Oltre a ciò, che questo è un po' il problema principale C'è da dire che Boh, ho preso tutte le carte che avevo in mano Mi sono guardato e ho detto Ok, non riesco a avere più tempo necessario Per portare del contenuto interessante in un video Come ben voi tutti sapete Perché si sa ragazzi Cioè, chi fa lo YouTuber Occupa gran parte della sua giornata Al computer Ha dedicato ai video Al montaggio A farlo A fare le riprese A registrare E tutto quanto Quindi è come una giornata lavorativa di 8 ore Se vogliamo dire Cominciamo alle 8 4 ore Pausa E anche di più Perché il lavoro da YouTuber Va avanti anche dopo cena Con le live streaming Tutte queste cose Cioè, è quasi un 24 ore su 24 Sei sempre operativo Perché anche di notte Vai a pensare Cosa faccio domani Che video faccio domani Quindi Non è lavorare al tuo negozio Che lavori 8-9 ore al giorno Io a questo tempo ragazzi Non riesco più a tirarlo fuori Perché L'anno scorso Per chi magari Ha seguito E seguiva anche i miei video Pubblicavo in questo periodo Più o meno L'anno scorso Un video a settimana Ed è ragazzi pochissimo Perché Adesso sono al secondo anno Di questo corso Che sto facendo E l'anno scorso È la stessa pappardella Nel senso che Adesso Lo stage del secondo anno Lo comincio a gennaio Però L'anno scorso L'ho iniziato A ottobre Se non sbaglio O novembre Non mi ricordo Comunque nel periodo Che ho lo stage Sono alla mattina Lo stage Al pomeriggio a scuola E Potete capire anche voi Che non riesco Avere il tempo materiale Di tornare alle 6-7 di sera Perché Se la mattina sono stage Dalle 2 alle 6 Dalle 2 alle 7 Più o meno Sono Sono al corso Non riesco a tornare a casa Ho comunque Altre passioni Attività Morosa E quant'altro Non ho il tempo materiale Quindi queste due cose La prima Che comunque Non riesco a avere Il denaro Materiale Iniziale E Questa cosa del tempo Non stanno insieme E insieme Diciamo Mi hanno portato In questa sedizione In questa decisione Che ho preso E che ho voluto dirvi E finalmente Ho fatto questo video Siamo alla conclusione Non ho nient'altro Da dirvi Mi dispiace un sacco Aver lasciato Così il canale Perché comunque Fare video Mi piaceva Ok E mi piace ancora Adesso Cioè Ogni tanto ci penso Che Cioè È due mesi Che non faccio un video Cioè Ci sta Era bello Vedere i vostri commenti positivi I like Giocare insieme Su Su Purafilitaliana Fare le live Eccetera Cioè Era tanto Tanto bello Anche la pagina Instagram Non Non la seguo più Non Non faccio neanch'io più post Eccetera Forse Probabilmente dopo due mesi Avrete notato questa cosa Dopo giorni di riflessione Ho deciso di aprire però Un canale Twitch Per continuare comunque Questa mia esperienza E questa mia Passione Che possiamo chiamarla così Che ritengo Sui video Sui giochi Twitch come sapete Sono solo live Non sono video Quindi non c'è tutta la parte Di montaggio Registrazione E questo per me È un lato positivo Perché Io Cerco Trovo Riesco a ricavare Per il momento Perché Lo stage Quest'anno Lo comincerò A gennaio Per il momento Riesco a ricavare Un'oretta Un'oretta e mezza Non dico tutti i giorni Ma 3-4 volte A settimana Soprattutto anche nel weekend Per fare una live Le live Chiaramente ragazzi C'è tutto Un preparativo Iniziale Per Per fare I layout Le scritte Preparare i bot Tutte queste cose Però dopo È un attimo Far partire una live E giocare Giocare con voi Giocare da solo Cambiare gioco Non è dopo quello La cosa difficile Quindi Niente Io vi volevo comunicare Che mi sono aperto Questo twitch Ve lo lascio Magari qua sotto In descrizione O comunque lo trovate Se non lo lascio Qua sotto in descrizione Vi lascio al mio instagram Sul mio instagram Trovate su Ve lo lascio Vi lascio tutto qua Le procedure Il link In descrizione Del mio profilo Il link di twitch Basta che scriviate Su twitch È gratuito Come youtube Vi scrivete Fate l'accesso E scrivete Su la barra di cerca Su twitch Come c'è scritto qua Mi trovate quasi subito Ho aperto il canale Circa un mesetto e mezzo fa Quasi due Sono Superassato Sono contento Perché ho sorpassato Da pochi 200 follower Quindi mi piacerebbe Che magari adesso Voi Quasi tutti Perché comunque Su 170.000 Questo messaggio arriverà A magari 10.000 persone Riusciate a venire Di là A seguirmi su twitch Mi farebbe molto molto piacere Io faccio live con voi Non solo su fort In questo periodo Mi gasa molto Perché c'è la nuova season Però mi piace anche Rainbow Ho scaricato Ringo a Felisium Un altro battle royale Molto bello sulla neve Adesso però mi sono Rispostato su fort Perché anche là C'è la neve È molto figo Mi piace un sacco Black Ops 4 Tanti tanti giochi Faccio anche molto Just chatting Gioco con voi Ho fatto l'impiccato E pinto urillo Cioè veramente Se vieni Cioè ci divertiamo Un sacco Quando facciamo la live Quindi Vi consiglio Qua sotto Trovate o instagram O il mio canale twitch O scrivete su Twitch Zu twitch Tutto attaccato ZHU twitch Tutto attaccato E mi trovate sui canali Ho l'immagine di profilo Con la mia faccia E trovate là Quindi ragazzi Il video finisce qui Non ho nient'altro a dirvi Sono stato totalmente sincero Non ho nient'altro da nascondervi Anzi Non vi ho nascosto niente Queste sono le cose Che dovevo dirvi Scusate il ritardo di questo video Però sono successe comunque Tante cose che mi hanno Fatto portare sempre avanti E comunque anche un po' La mancanza di tempo Sono riuscito a trovare Un buchetto Oggi Che sto registrando il video Quindi Spero che questo video Esca a breve E ragazzi Io vi voglio salutare Per l'ultima volta Però mi raccomando Venitemi a seguire A salutare Voi stessi Live Ho visto Ditemi Ho visto il video Zuu Ci sta Dai Posso giocare Chiedetemi anche se potete giocare Non è assolutamente un problema Gioco con tutti A turni Chiaramente Adesso ci sono sempre le stesse persone Perché non siamo in tantissimi Però Giochiamo insieme Quindi ragazzi Trovate qua sotto tutto Noi ci salutiamo Un bacione Un abbraccione Bella